Nell'oscurità dello spazio profondo, l'astronave CosmoTube naviga verso l'ignoto. A bordo, un equipaggio di scienziati e avventurieri, guidati dal loro capitano esperto, sono in missione per esplorare uno dei fenomeni più affascinanti dell'universo, i buchi neri. I buchi neri non sono semplici buchi nello spazio, spiega il capitano, rivolgendosi all'equipaggio. Sono regioni sferiche e una volta entrati non c'è ritorno. L'orizzonte degli eventi, la superficie di questa sfera, è completamente nero perché neanche la luce può sfuggirne. L'equipaggio è affascinato. Decidono di condurre un esperimento, lanciando un orologio verso il buco nero. Osservano il tempo rallentare man mano che si avvicina all'orizzonte degli eventi, un fenomeno previsto dalla relatività generale di Einstein. L'orologio sembra ticchettare sempre più lentamente e, infine, svanire, diventando invisibile a causa dello spostamento verso il rosso gravitazionale. I buchi neri non risucchiano tutto come aspirapolveri cosmici, continua il capitano. La gravità attorno a un buco nero è simile a quella di qualsiasi altro oggetto della stessa massa. Se il Sole si trasformasse in un buco nero, i pianeti continuerebbero a orbitare esattamente come prima. Il raggio dell'orizzonte di un buco nero, noto come raggio di Schwarzschild, dipende dalla sua massa. Un buco nero dieci volte più grande del Sole avrebbe un raggio di appena 30 chilometri, mentre uno di un milione di masse solari avrebbe un raggio di circa 3 milioni di chilometri. Una stella può collassare e diventare un buco nero quando si spengono le reazioni nucleari che la tengono in equilibrio, spiega l'astrofisico dell'equipaggio, ma solo se è abbastanza massiccia da diventare incredibilmente densa durante il collasso. Questo non accadrà al nostro Sole, che non è abbastanza massiccio. Ma cosa succede quando un essere umano si avvicina a un buco nero? Dal vostro punto di vista, all'inizio non succederebbe nulla di speciale, spiega il Capitano. Ma una volta oltrepassato l'orizzonte, sareste intrappolati, condannati a precipitare verso il centro del buco nero, dove si trova una singolarità di densità infinita. Il mistero di cosa si trovi realmente al centro di un buco nero rimane. Forse un giorno, riflette il Capitano, qualcuno avrà il coraggio di scoprirlo. Ma per ora, continuiamo la nostra missione, esplorando e cercando di comprendere i segreti dell'universo. Mentre la CosmoTube prosegue nel suo viaggio, l'equipaggio sa che ogni giorno porta nuove scoperte e avventure. Sono determinati a svelare i misteri del cosmo e, con l'aiuto di chi segue la loro missione da lontano, sono pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell'esplorazione spaziale. Non potete immaginare quanto sia emozionante, dice il Capitano, essere ai confini della conoscenza umana, guardare nell'abisso di un buco nero e cercare di decifrare i suoi segreti. Ogni giorno qui è una sfida, un passo verso l'ignoto, e siamo onorati di condividere questo viaggio con tutti voi. Con queste parole, il Capitano sigilla il loro impegno a questa missione audace e storica, mentre la CosmoTube si avventura sempre più profondamente nel cuore misterioso del cosmo. Il viaggio non è privo di pericoli. L'equipaggio è costantemente in allerta per le radiazioni emesse dai buchi neri, che possono essere mortali se non adeguatamente schermate. Ogni membro dell'equipaggio conosce i rischi, ma l'opportunità di avanzare la conoscenza umana è un richiamo troppo forte per resistere. Mentre si avvicinano a un gigantesco buco nero supermassiccio, l'equipaggio osserva fenomeni straordinari. «Guardate!» esclama l'astronomo di bordo. «Le stelle sembrano attorcigliarsi intorno a un cerchio perfetto di oscurità. È l'effetto della lente gravitazionale causato dal buco nero. Il capitano, con occhi pieni di meraviglia, risponde «Questo è il motivo per cui siamo qui. Per vedere con i nostri occhi ciò che pochi umani hanno avuto la fortuna di osservare, siamo testimoni diretti delle leggi fondamentali dell'universo in azione. Nel frattempo, i tecnici a bordo lavorano instancabilmente per mantenere l'astronave in condizioni ottimali. Ogni sistema è monitorato con precisione. Ogni allarme è una chiamata all'azione immediata. La vita a bordo della cosmotube è un equilibrio tra la routine quotidiana e l'adrenalina di momenti critici. «Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo», riflette il biologo dell'equipaggio. «E ogni scoperta ci avvicina a rispondere alle domande fondamentali dell'esistenza. Che cosa sono i buchi neri? Sono davvero porte verso altri universi, come teorizzato da alcuni fisici? O sono la fine definitiva, divoratori di tutto ciò che incontrano?» Oltre l'orizzonte degli eventi, il capitano risponde, «Non possiamo oltrepassare l'orizzonte degli eventi perché…» «Vedete», prosegue, «l'orizzonte degli eventi è il punto di non ritorno di un buco nero. Una volta attraversato, non c'è modo di tornare indietro. È come una cascata nel tempo e nello spazio. Stranamente, una volta attraversato, le coordinate di tempo e spazio si scambiano di ruolo. All'interno di un buco nero, non puoi evitare di muoverti verso il centro, chiamato singolarità, proprio come non puoi evitare di muoverti nel tempo nel nostro mondo esterno. L'equipaggio ascolta attentamente, assorbendo ogni parola. La singolarità Al centro del buco nero, continua il capitano, si trova la singolarità, un punto in cui la densità diventa infinita e le leggi della fisica, come le conosciamo, cessano di avere senso. Qui, il concetto di tempo, così come lo intendiamo, potrebbe non avere più significato. Alcune teorie suggeriscono che in questo punto, tempo e spazio potrebbero essere distorti in modi che la nostra attuale comprensione della fisica non può descrivere. Gli occhi dell'equipaggio si allargano, immaginando un luogo dove le regole stesse dell'universo sono riscritte. Un osservatore esterno Per un osservatore esterno, dice il capitano, come noi, qualcosa di strano accade quando guarda un oggetto cadere in un buco nero. Vedrebbe l'oggetto rallentare sempre di più man mano che si avvicina all'orizzonte degli eventi fino a sembrare congelato nel tempo, senza mai attraversare completamente l'orizzonte. L'equipaggio rimane in silenzio, riflettendo sulle parole del capitano. In sintesi, conclude il capitano, i buchi neri rappresentano regioni dello spazio-tempo dove le nostre intuizioni quotidiane sul tempo sono profondamente sfidate. Sono laboratori naturali dove le leggi estreme della fisica sono manifeste e continuano a essere oggetto di intensa ricerca e fascinazione. Speriamo che questo video ti sia piaciuto tanto quanto a noi nel crearlo. Se è così, ti invitiamo a premere il pulsante Mi piace e ad iscriverti al nostro canale per non perderti i prossimi contenuti. Abbiamo creato questo spazio proprio per te e saremmo felici di sentire le tue idee, quindi, per favore, lascia un commento qui sotto e condividi con noi le tue impressioni e i tuoi suggerimenti. Siamo qui per ascoltarti. Ricorda, questo viaggio emozionante è solo all'inizio e abbiamo in serbo tante sorprese per te. Non vediamo l'ora di condividere questa avventura insieme a te. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.